Serie A2 con tre squadre campane, Caserta nel girone est, Scafati e Napoli in quell'ovest. Per la squadra di terra di lavoro il primo obiettivo sarà quello di creare le condizioni di stabilità nel secondo torneo nazionale. Prima la salvezza, poi la possibilità di credere in qualcosa di più. La dirigenza e lo staff tecnico avevano mosso i primi passi sul mercato già in ottica Serie B. Acquisti da rileggere ora in chiave A2 dopo l'inserimento nell'organico del raggruppamento est, favorito dai disimpegni e dalle uscite nei diversi tornei nazionali. Caserta pensa a Marco Giuri e a Jakub Wojciechowski per accelerare e mettere a segno colpi utilissimi. Subito un ruolo di primo livello nel campionato della vera rinascita per la Juve-Caserta. Giuri sembra ormai ad un passo dal ritorno al Palamaggio, mentre per il polacco naturalizzato italiano saranno decisivi i test fisici. Napoli e Scafati sono al lavoro per definire il roster e il club dell'agro strizza l'occhio alla scandone con il suo sponsor Givova. L'azienda scapatese di Giovanni Acanfora è pronta a garantire un sostegno deciso al club Bianco Verde nell'estate della doppia autorretrocessione in Serie B richiesta dalla Sirigas, che appare sempre più lontana dalle dinamiche cestistiche. È il giorno in cui il club è chiamato a pagare la tassa di 1.800 euro di associazione alla Lega Nazionale Pallacanestro, un passo che sarà garantito dal sindaco Gianluca Festa, unico garante in questa fase.